Ciao a tutti! Ecco di nuovo me, Perla. Questa volta voglio fare un video per spiegare al frangolino un cagnolino. Soprattutto si tratta di un cagnolino bianco che è andato su una macchina come Perla e si è sporcata tutta di nero. E' semplice, il pasto sarebbe il bicarbonato di pelle. Metterlo un po' su un tovaiolo, su di, vieni qua, seduta, seduta, cercare di farla stare ferma, se è possibile. E' semplice, che lo spiangolano. E' semplice, in modo abbastanza neppico. Ahah! Ahah! Ci riusciremo, perché ci siamo, cerchiamo di pulire la sinistrazione. Ciao a tutti!